I pilastri portanti dell'FTC e chi? Eh, apraudite! Ovviamente però la squadra non vive di soli ideali ma ci sono altre questioni burocratiche e corsi da sostenere Altre questioni Altre colleghi Ma perché la topola? Ah no, non si è asato Ma non c'è il rischio e se è per lei Arrivato a questo punto i nostri ringraziamenti Arrivato a tutti coloro che nell'anno 2015 ci hanno sostenuto economicamente Ringraziamo quindi Michele Gervasoni dell'Omonima Maternale Massimo Fossoni della Parola Massimo Chironi dell'Emma Maternale Michele Gervasoni Sì Michele Gervasoni Michele Gervasoni Mobilazione Michele Gervasoni Luca Bonassi di Intesi Della meccanica Sebina Turla Fabio della pescheria Turla Marco Figgini Dei vini Figgini che purtroppo non è qui presente questa sera E la nostra carissima Antonella Senti dove è Tonella? Tonella Lompadini titolare della trattoria che ci ho E Gerva Maggiunietto Gerva Maggiunietto Naturalmente fiduciosi che questo rapporto possa continuare Anche per gli anni a venire Te l'hai dominato anche il negozio famoso Ah e io passo ragazzi Bravo Carlo Noi siamo una piccola grande squadra Con l'obiettivo unico del divertimento Attraverso il ciclismo puro e pulito Si spera Certi che questa nostra passione possa solo continuare a crescere E contagiare le nuove generazioni Che sono sale di tutto il movimento ciclistico Rinnovo perciò da parte mia E a nome di tutto il direttivo Due ringraziamenti alla squadra e a tutti i presenti Grazie 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 Cominciamo con le prime azioni Grazie Grazie Grazie